Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Subito uno sguardo ai numeri del Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Sono 7.427 nuovi casi Covid nella regione, secondo i dati del report. Si registrano ancora molte vittime, parliamo oggi di 27 morti. I ricoverati invece negli ospedali sono in calo, sono 1.635 quelli nelle aree non critiche, esattamente 61 in meno rispetto alla giornata di ieri. In calo anche il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, dove ad oggi restano 148 pazienti. Non ci sarà una quarta dose del vaccino anti-Covid, ma un richiamo, speriamo, annuale e dovremo fraternizzare anche con quello. Sono le parole del direttore generale dell'AIFA che ha aggiunto l'efficacia di questi vaccini. E' andata anche meglio del previsto rispetto al fatto che siano stati scoperti così in fretta che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel primo trimestre di utilizzo reale. E aggiunge ancora c'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l'ha parzialmente ridotta. E mentre stiamo allentando le misure contro il Covid, arriva la notizia poco felice della nuova variante Omicron 2 già identificata in Veneto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che si trova a Legnaro, in provincia di Padova. Al momento non ci sono evidenze preoccupanti, sembra solo una variante altamente contagiosa e di fatti ha una maggiore capacità di sfuggire alla protezione offerta dai vaccini ma quando infetta una persona vaccinata ha minore capacità di diffondersi ulteriormente. A Padova davanti al Comune questa mattina si è svolta la celebrazione per il giorno del ricordo in memoria della tragedia degli italiani vittime delle foibe. Vediamo. A Padova davanti al Municipio si è svolta la celebrazione per il giorno del ricordo in memoria della tragedia degli italiani vittime delle foibe e dell'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia. La cerimonia è iniziata con l'alza bandiera ed è proseguita con la deposizione di una corona di alloro in memoria delle vittime sotto la lapide in ricordo dei martiri delle foibe in via Oberdam. Erano presenti le massime autorità civili, religiose e militari. Hanno poi preso la parola per i discorsi ufficiali il Sindaco di Padova e il Presidente Provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Andrea Todeschini Premuda. Abbiamo il dovere della memoria, detto il Sindaco di Padova affermando ricordiamo qui una pagina tragica della nostra storia recente che per molto tempo è stata ignorata o trattata con inaccettabile superficialità. Commemoriamo le persone trucidate e gettate nelle foibe sull'altopiano carsico e in Venezia Giulia tra l'autunno del 1943 e la firma del Trattato di Pace il 10 febbraio 1947. Ma anche il dramma, le violenze e le ingiustizie che patirono i connazionali che ancora vivevano in Istra e Dalmazia e che proseguirono ancora per un decennio l'arco di tempo entro il quale si sviluppò il doloroso esodo degli italiani da quelle terre. La persecuzione che questi italiani subirono e che fu a tutti gli effetti una vera e propria pulizia etnica spesso spiegata sbrigativamente solo come rappresaglia per le violenze compiute dal nazifascismo in quelle terre non è un episodio minore ma una pagina importante e drammatica della nostra storia, afferma il Sindaco di Padova. Ci sono voluti anni di impegno, tenacia da parte prima degli stessi esuli e poi dei loro figli e nipoti perché non solo gli storici ma anche l'opinione pubblica tutta prendesse coscienza di queste vicende. Dopo le notizie incerte arrivate ieri sera, oggi arriva la conferma della morte del professor Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'AIDS. Era diventato un riferimento dei Novax, un forte sostenitore dell'idrossiclorochina come cura contro il Covid. Montagnier aveva 89 anni, recentemente aveva partecipato in Italia ad una manifestazione che si era svolta a Milano durante la quale aveva ribadito le sue idee sul Covid. Grandi momenti di tensione oggi pomeriggio in centro a Padova, nel pieno cuore della città. Una ragazza è entrata in un negozio prendendosela con i clienti presenti, spaventandoli e inveendo contro i negozianti. Dai racconti che abbiamo raccolto sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. La donna, 24 anni, si è rivoltata con violenza anche contro di loro, tentando di strappare la pistola di ordinanza ad uno degli agenti. Una situazione drammatica che ha spaventato tantissimo i presenti. La vicenda si è conclusa con la fuga della donna che è stata braccata poco dopo in listonna, gettata a terra e immobilizzata. Momenti concitati durante i quali lei continuava a gridare e a dimenarsi. Domani vi daremo ulteriori aggiornamenti e dettagli. Un uomo di 44 anni del Bangladesh è rimasto ferito ieri sera a Marghera dopo essere stato travolto da un'automobile. Un incidente che dovrà essere ricostruito in base ai rilievi che sono stati effettuati. L'uomo ferito è stato ricoverato all'ospedale. E oggi 10 febbraio si è svolta anche a Padova la commemorazione di Giovanni Palatucci. Vogliamo ricordarlo. Giovedì alle 10 in piazzetta Palatucci a Padova si è tenuta una breve cerimonia di commemorazione in occasione dell'anniversario della morte di Giovanni Palatucci, questore reggente di fiume morto nel 1945 a soli 36 anni nel campo di concentramento di Dachau dove era stato deportato. Medaglia d'oro al merito civile conferitagli dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1995 e riconosciuto giusto tra le nazioni per aver salvato dal genocidio moltissime famiglie ebrei, italiane e croate. La cerimonia si è svolta presso la lapide dedicata al valoroso dirigente della Polizia di Stato nell'omonima piazza davanti all'ingresso della questura di Padova, alla presenza del questore Antonio Sbordone e del prefetto Raffaele Grassi. Dopo il silenzio intonato dal trombettiere è stata deposta una corona di alloro e Don Vittorio Pistore ha guidato un breve momento di preghiera per Giovanni Palatucci, proclamato servo di Dio da Papa Giovanni Paolo II che in occasione della cerimonia ecumenica giubilare del 7 maggio 2000 lo ha annoverato tra i martiri del XX secolo. Ancora un incidente stradale, questa volta mortale, avvenuto nella serata di ieri. Matteo Minozzi, 36 anni di gazzo, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Camisano Vicentino. Era alla guida di uno scooter quando ne ha perso il controllo finendo fuori strada. La caduta è stata fatale, nonostante l'arrivo del 118 non è stato possibile salvarlo. La compagnia dei carabinieri di Bassano del Grappa ha identificato e arrestato due uomini che avevano seminato il panico tra il Vicentino e il Trevigiano per i numerosi furti che avevano compiuto. A bordo di una BMW nera raggiungevano degli obiettivi individuati e li svuotavano. A loro vengono attribuiti numerosi colpi. Quando gli uomini dell'arma hanno perquisito le loro abitazioni hanno trovato anche un'enorme quantità di sostanza stupefacente. I due sono un italiano e un albanese. Adesso cambiamo completamente argomento. Parliamo di un libro davvero molto interessante dal titolo Il Metodo Geniale è stato presentato in provincia a Padova. Nella sala consiglio di Palazzo Santo Stefano a Padova è stato presentato il libro Il Metodo Geniale, scritto dal giovane studioso Giulio De Angeli, edito da Mondadori che raccoglie le strategie e i segreti del cervello per apprendere velocemente e amare lo studio. Un metodo che ha permesso all'autore di prendere 5 lauree in 6 anni. Io sono convinto visceralmente che per fare quello che ho fatto io non servono superpoteri o poteri magici di sorta. Semmai gli unici superpoteri sono quelli metodologici. Assolutamente non è riservato solo agli studenti ma è esteso proprio a qualunque categoria. Curiosamente quando il libro è stato annunciato sono stato contattato non solo da studenti ma da per esempio tantissimi manager aziendali proprio a testimonianza del fatto che assorbire informazioni oggi è qualcosa veramente di trasversale che è richiesto a qualunque categoria professionale quindi ottimizzare il proprio tempo e assorbire informazioni in modo efficiente. Gli unici superpoteri sono metodologici e il libro vuole essere un distillato di alcuni consigli che mi sento di offrire ai nostri lettori. Come tradizione da qualche anno in occasione della ricorrenza di San Valentino il Comune di Padova realizza varie iniziative dedicate alla festa degli innamorati così lunedì 14 le coppie potranno visitare gratuitamente alcuni musei civici. Sono aperti per l'occasione appunto visitabili gratuitamente nonostante il lunedì sia normalmente il giorno di chiusura i musei civici agli eremitani, il Palazzo Zuckerman, Palazzo della Ragione e il Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea. Uno stimolo in più dunque per fare visita all'arte. Ma anche chi non cede alle sirene dell'arte in questi giorni a Padova trova una romantica atmosfera ispirata alla ricorrenza di San Valentino grazie alle installazioni luminose a tema realizzate dall'assessorato alle attività produttive. La città dunque ha assunto un aspetto romantico. E adesso uno sguardo alle condizioni climatiche. La pressione è in calo. Domani alcune modeste precipitazioni per il transito dal nord-ovest della parte più meridionale di una depressione con nucleo sull'Europa settentrionale. Nel fine settimana la circolazione tornerà ad essere anticiclonica. Naturalmente poi domani vedremo l'evolversi del clima. Erano queste le ultime notizie con gli aggiornamenti. Vi ricordiamo come sempre il nostro sito internet www.telecittà.tv dove potete trovare tutta l'informazione aggiornata, anche quella dall'Italia e dall'estero sempre. Potete vedere anche la nostra televisione in streaming. Vi auguro un buon proseguimento e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.